su spettacolomania stefano scalcotos benvenuto una pronuncia perfetta non è scontato vero ecco perché io studio prima quante volte ti storpiano il nome stefano scalcotos lo ridico perché sono orgogliosa di dirlo bene stefano scalcotos ma tantissime da quando sono piccolo ormai proprio per me è un'abitudine ormai non correggo quasi più basta va bene però dai andata bene sto giro come si dice a roma è di origine greca no mio padre greco si è meraviglia terra meravigliosa peraltro sono orgoglioso io di avere queste doppie radici cioè non una ma doppia insomma certo allora benvenuto su spettacolomania te l'ho già detto sono molto contenta di parlare con te per la prima volta tra l'altro anche perché ti vedremo su netflix dal 12 gennaio in lift un film proprio d'azione di quelli proprio quant'è d'azione questo film tantissimo parecchio beh gary gary grey regista insomma è un regista che di film d'azione ne ha fatti ne ha fatti vari però io sinceramente gary non lo definirei unicamente cioè non gli vorrei dare questa come dire definizione unicamente action no perché poi in questo mondo si tende un po classificare ogni tanto cioè non dimentichiamoci che gary non so se fosse la sua opera prima adesso non ricordo però è il regista di street of the compton che è un film a tostissimo fortissimo insomma ecco però gary è anche uno che collection ci sa sicuramente fare insomma ne ha già dato dimostrazione credo con the italian job qui ce n'è tanta poi raccontiamo poi brevemente la trama però prima volevo dirti tu sei praticamente l'unico attore italiano di questo film perché c'è una collega ma è un'attrice e poi va bene ovviamente e tu però sei l'unico perché questo film è anche in parte ambientato in italia qual è il tuo ruolo e si allora va guarda innanzitutto si è vero sono diciamo un po io e martina avogadri si avogadri si siamo un po il porta bandiera dell'italia è una cosa bella l'ha anche dichiarato gary in questi giorni cioè lui ha creato secondo me è un cast molto eterogeneo no perché se ci pensi c'è vabbè kevin art protagonista assoluto che comunque un attore afroamericano protagonista femminile attrice britannica ursula corbero dalla spagna jean dalla francia il mio amico sam worthington con cui ho condiviso molte scene quindi mi permetto di dire il mio amico australiano c'è un'attrice orientale insomma secondo me ha fatto un bel lavoro da questo punto di vista no cioè ha creato così questa questa bella questa bella unione di etnie in un momento in cui bene insomma mi sembra che ne abbiamo ne abbiamo bisogno molto orgoglioso di questo e si poi per me lift è stata una continua sorpresa perché vedi io avevo fatto il mio provino appunto il mio personaggio inizialmente genericamente era chiamato italiane agent e aveva poliziotto poi sei un poliziotto un carabiniere adesso il mio personaggio prende il mio nome stefano è un carabiniere che si occupa di tutela dei beni culturali perché in tutta questa storia c'è anche un furto praticamente di opere d'arte che appunto avviene a venezia però inizialmente il mio ruolo era presente solo a venezia in poche scene e la cosa molto bella è stata che dopo il secondo giorno di riprese io vengo chiamato dalla mia gente che mi dice guarda che sembra che ti vogliano anche a trieste poi a belfast poi a londra no per cui cosa sta cambiando lei non aveva molte informazioni mi ha detto guarda domani sul set produttrice regista ti spiegano tutto e lì è successo che insomma quello io penso che ogni attore no in un certo senso spera sogna gary aveva deciso di sviluppare di sviluppare il mio personaggio è in questo modo che in un certo senso io poi sono diventato come dire non l'unico perché c'è martina ci tengo a ribadirlo non solo perché è un'amica ma perché un'attrice straordinario e quindi il portabandiera dell'italia in questo cast misto io però ho detto l'unico attore perché c'è anche un'attrice l'avevo l'avevo detta insomma l'ho nominata martina ci mancherebbe altro piacere nominarla perché è un'amica è diventata durante questo set ci siamo come dire si aiutati anche a vicenda no per cui insomma si creano quei legami insomma in queste cose così belle si creano dei legami che probabilmente poi restano immagino che insomma vi continuate a sentire certo senti brevemente perché altrimenti facciamo notte però brevemente la trama di questo film è che c'è questa banda internazionale di rapinatori che devono praticamente recuperare un carico di lingotti d'oro ma su un aereo quindi ad altissima quota e lì c'è tutta la spettacolarità diciamo soprattutto no del film perché questo oro va a finanziare degli degli atti terroristici commissionati appunto da un ricco banchiere che con questi atti no gira un po il mercato e quindi si arricchisce e non diciamo altro perché se ne abbiamo raccontato tutto il film questa è la trama e tu sei dalla parte dei buoni tenendo presente però scusami perché io l'ho visto e quindi mi faccio le domande tenendo presente che anche dalla parte dei buoni magari c'è qualcuno che è tanto buono non è e non sei esatto non sono io no certo non sono io io sono proprio un buono mi capita spesso di interpretare dei buoni diciamo io sono sono di supporto all'agente gladwell abby che è appunto google battaro in questa mastodontica operazione dell'interpol e il nostro capo supremo è axley ovvero sam worthington che è appunto come dici tu poi tanto buono diciamo è un po ambiguo però esatto un po grazie diciamo anche a questa ambiguità di axley che diciamo il mio personaggio viene un po fuori no perché effettivamente la mia volontà di diciamo fare la cosa giusta di di fare bene sarà interessante perché caratterizza il personaggio di stefano caratterizza il personaggio e in un certo qual modo sarò abbastanza determinante in una delle delle scene finali insomma esatto ma lo facciamo scoprire no solo una cosa è nominato l'interpol io non l'avevo nominata se no magari chi non ha visto il film e chi non vede il film non ci capisce perché appunto devono recuperare questo oro per come dire su richiesta diciamo così su ricatto dell'interpol per salvarsi ecco questo è per chiarire la questione no no non è spollerato sono io che non avevo spiegato bene forse all'inizio sempre preoccupatissimo e a chi lo dici guarda a chi lo dici perché a voi poi vi graziano a noi no quindi siamo doppiamente attenti e tu tra l'altro sei già di casa a netflix perché ti abbiamo visto anche in la vendevilla no recentemente e invece la mia domanda però è tu hai interpretato sia personaggi inventati e continui ovviamente a interpretarli ma anche ruoli di personaggi che sono realmente vissuti come corrado mi viene in mente noi permette alberto sordi oppure giorgio mondadori nel film dedicato a loro i libri per cambiare il mondo ecco che cos'è più difficile che cos'è più interessante per un attore dar vita a qualcosa a qualcuno che non esiste forse avete più libertà o dover essere un po incollati a un personaggio che la gente in qualche modo conosce ma sai cosa succede che ad esempio nel la vendevilla io ero il commissario il capo della polizia di verona e quindi lì sono stato libero sin dalla fase di casting di inventarmi questo buffo diciamo questo buffo capo della polizia che parla questo inglese con uno spiccatissimo accento veneto no e forse credo che questa cosa mark steven johnson sia 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 piaciuta nel caso di lift secondo me il mio personaggio si caratterizza molto in base anche alle emozioni e le sensazioni che io ho provato no all'interno del set stefano carabiniere si trova coinvolto in un'operazione mastodontica molto più grande di sé e la stessa cosa è successa a me come stefano attore mi sono trovato coinvolto magicamente in una cosa molto più grande di me è quasi insperata è questa cosa mi piace c'è mi piace molto ecco e stuzzica un po il mio istinto artistico casomai ne dovesse avere uno non lo so e per ciò che riguarda invece personaggi realmente esistiti vabbè in italia adesso ultimamente vanno vanno di moda i biopic e a me piacciono devo dire guarda nel caso di corrado sai ho risposto un'altra domanda su questo mi piace pensare di aver fatto una piccola dedica ai miei amatissimi nonni materni che erano dei grandi fan di corrado mantoni mi ha aiutato molto in quel caso un po la somiglianza perché corrado da giovane mi somigliava aveva anche lui gli occhi azzurri e il fatto che io sin da bambino ero proprio un patito delle imitazioni ero molto bravo a imitare da bambino è molto più di adesso e corrado a questa questa voce particolare per cui insomma ecco ci siamo arrivati male siamo arrivati molto velocemente e infatti luca manfredi si non ha avuto proprio nessun dubbio nessuna esitazione in quel caso è stato un bellissimo maggio una bellissima partecipazione io l'ho trovato anche un film per la tv insomma molto molto delicato carino rispettoso non lo so perché io in tutte le cose che faccio ci metti tutta la passione che hai un grande entusiasmo non mi faccio molte domande diciamo tecniche ecco sono abbastanza istintivo in questo mi butto in corrado mi ha aiutato molto questo skill diciamo delle imitazioni e soprattutto la sua voce particolare poi essendo io un attore non ne ho credo di non averne fatto una macchietta ecco una semplice imitazione insomma questa cosa mi stuzzica molto che quale altri quale altro personaggio sai imitare dai 80 per cui se ti ricordi c'era una trasmissione molto bella dal bandiera gialla di limini condotta dal compianto gigi sabani e vabbè grandissimo imitatore che poi è stata una trasmissione che ha fatto esplodere tantissimi personaggi come neri marco max tortora imita veramente sopra fini ecco e io ero molto bravo ad imitare mike buongiorno signori e signori buonasera allora quale busta vuole la 1 la 2 o la 3 vabbè questa l'ho rubato un po a fiorello che faceva quello sketch sulle buste la 1 la 2 la 3 lui vabbè imitavo fantazzi classi come buono lei ecco queste cose qua ma tutto questo perché poi essendo nato in quegli anni sono un nerd di quei film per me è fantazzi io c'ho anche i libri per cui con i miei amici storici ancora adesso facciamo cene in cui appunto citiamo battute cose non solo di fantazzi ma anche di vacanze di natale che adesso è l'anno praticamente restaurato forse la celebrazione l'hanno rimandato al cinema e questo poi abbattantuono pure quando faceva il personaggio quello tutto così quello che parlava violenza quello va bene insomma ecco questo è sciocchietto le cose lino è molto divertente e per chiudere e parliamo un attimo anche dei tuoi maestri quelli che ti hanno dato diciamo ti hanno un po' instillato la scintilla possiamo nominare a proposito di grandi ugo pagliai rossella falc ugo kitty a quanto servono i maestri nella vostra professione franca nuti mi permetto di aggiungere franco particolare ma sai questo fa parte di una fase della vita degli attori che è quella più accademica che è importantissima nel senso che ti dà una base tecnica sulla quale poi tu dopo puoi giocare come vuoi franca nuti in particolare io dei ricordi bellissimi di lei è una donna di una dolcezza di una delicatezza incredibile un'attrice sopraffina mi ha insegnato a recitare la poesia ovvero a non recitarla non so se quindi chiaro a sentirla più che altro forse insomma c'era una bella stima reciproca la ricordo con grande 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 amore artistico ecco poi ce ne sono stati molti altri dopo che ho finito l'accademia gabris ferrari grandissimo regista scenografo mi ha fatto fare veramente un grande salto ecco mi ha fatto superare l'accademismo perché forse superare l'accademismo è ancora più importante cioè ti aiuta a trovare vabbè passami questa parola magari la tua personale poetica ma più che altro la tua personale ricerca rispetto a questo mestiere il doppiaggio mi ha regalato tanti grandi maestri e mi sta regalando tanti grandi maestri di recitazione prima di tutto al di là della tecnica del doppiaggio quindi sei anche doppiatore fai doppiaggio sì talvolta non è non è il mio skill principale però è una cosa che continua molto a piacermi e quindi mi va di citare massimo giuliani che è una persona che sicuramente artisticamente mi ha cambiato la vita marco guadagno una persona che con cui artisticamente faccio a doppiaggio delle cose ho fatto delle cose molto belle con lui e sono tutti attori sono tutti attori che sanno dirigere a leggio altri attori si 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 impara tantissimo tantissimo e mi sono stati anche molto utili per la presa diretta è perché non è che una cosa esclude l'altra e cito ludovica modugno che purtroppo non c'è più cito la mia amica fabrizia castagnoli splendida doppiatrice grande maestra cito il mio grande amico andrea tidona con il quale io ho condiviso sei anni bellissimi di uno spettacolo meraviglioso che la cena di walter manfred andrea oltre a essere un amico è uno dei grandi attori con i quali ho lavorato artisticamente mi ha dato tanto umanamente mi ha dato ancora di più siamo ancora molto amici gli voglio molto bene insomma sono importanti non finiscono mai anche quando soprattutto quando si continua a lavorare sono importanti per la per la professione per l'arte ma anche per per la vita umanamente per arricchirsi assolutamente e non è scontato che le due cose vadano a braccetto certo molto spesso accade e quando accade è magia pura è magia sì sì io sono stato fortunato da questo punto di vista mi ritengo molto fortunato sono molto felice allora grazie a stefano scalcotos lo ridetto perfettamente vedi per questa bella intervista con noi di spettacolomania ovviamente aspettiamo tutti il 12 gennaio per vederti su netflix in lift e per tante altre cose belle che farai per le quali sicuramente ci rincontriamo speriamo grazie stefano del vostro tempo ciao ciao grazie mille